Musica Confermati i vertici delle commissioni, il Consiglio regionale ha rinnovato all'unanimità gli uffici di presidenza delle sette commissioni permanenti. Super eroi all'insegna della solidarietà, presentato a Palazzo del Pegaso lo spettacolo d'apertura del festival Luci nel Parco. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Tutte confermate all'unanimità le cariche istituzionali delle sette commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura. Il Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo ha presieduto alla votazione e all'insediamento degli uffici di presidenza. Riepiloghiamo quindi la geografia delle commissioni e ascolteremo anche le dichiarazioni dei vari rappresentanti. Iniziamo dalla Commissione Territorio Ambiente, Mobilità e Infrastrutture. Presidente Lucia De Robertis, Vicepresidente Alessandro Capecchi e Vicepresidente Segretario Cristiano Benucci. Sentiamo la confermata Presidente De Robertis. È venuta sì all'unanimità da parte della Commissione. Ringrazio il Presidente per la proposta e i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi due anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi. Prima fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Passiamo alla Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio. Presidente confermato Giacomo Bugliani, Vicepresidente Elisa Tozzi, Vicepresidente segretario Valentina Mercanti. In questo caso sentiamo Elisa Tozzi. Devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma Vicepresidente. Segno che in questa Commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra Commissione è una Commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio e un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della Commissione. Il lavoro è stato proficuo e io credo che in questi due anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente approvazione del piano regionale di sviluppo ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Penso anche a un'attività riformatrice, abbiamo parlato molto spesso della necessità di intervenire sul riforma del regolamento. Abbiamo affrontato modifiche statutarie ma sicuramente non mancheremo di portare avanti altre iniziative di questo tipo. Un'attività legislativa che sicuramente in questi ultimi due anni e mezzo dovrà caratterizzarsi per una maggiore intensità anche in un'ottica di semplificazione. Siamo alla Commissione Sviluppo Economico e Rurale. Ilaria Bugetti, Presidente. Vittorio Fantozzi, Vicepresidente. Mario Puppa, Vicepresidente Segretario. Sentiamo il riconfermato Vicepresidente Vittorio Fantozzi. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione. Non sono mai mancati gli spunti critici ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa Commissione, la Presidente Bugetti e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della Commissione. L'obiettivo è chiaramente cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Siamo alla Commissione di Controllo, Presidente Alessandro Capecchi, Vicepresidente Andrea Pieroni e Vicepresidente Segretario Silvia Noferi. Sentiamo il Presidente Alessandro Capecchi. Abbiamo confermato l'ufficio di presidenza. In qualità di Vicepresidente continuerò ad occuparmi dei temi a meccari dall'assetto del territorio all'ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti e continueremo a lavorare, naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni, come abbiamo fatto fino ad oggi per due anni e mezzo, fino alla fine della legislatura e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. Siamo arrivati alla Commissione Sanità e Politiche Sociali. Enrico Sostegna è il Presidente, Andrea Ulmi il Vicepresidente ed Andrea Vannucci il Vicepresidente Segretario. Ascoltiamo la dichiarazione del Vicepresidente Ulmi. Beh, ovviamente abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo. Per quanto mi riguarda faccio il Vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della Regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. La Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, Presidente Francesco Gazzetti, Vicepresidente Giovanni Galli, Vicepresidente Segretario Anna Paris. La dichiarazione di Francesco Gazzetti. Innanzitutto voglio ringraziare le colleghe e i colleghi della Commissione che hanno voluto confermarmi alla guida della nostra realtà, così come mi congratulo con i Vicepresidenti Giovanni Galli e Anna Paris. Le cose da fare sono molte. Avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa commissione e la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra commissione. È un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. Chiudiamo con la commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali. Cristina Giacchi è stata confermata presidente, Luciana Bartolini vicepresidente e Maurizio Sguanci vicepresidente segretario. Sentiamo la dichiarazione della vicepresidente Luciana Bartolini. I lavori di stamani sono proceduti regolarmente, è stata confermata la presidenza, la vicepresidenza, me compresa, e quindi si continua a lavorare con gli stati generali della cultura. Si rinnova l'impegno, insomma, quali saranno i vostri obiettivi per questa seconda parte della legislatura? È portare a termine gli stati generali della cultura, un lavoro che abbiamo iniziato già da molti, quindi sì che continua a proseguire per, diciamo, fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. E dopo le commissioni cambiamo argomento. Supereroi è il titolo dello spettacolo di musica, parole e danza, realizzato da un gruppo di ragazzi della comunità terapeutica Crisalide di Magliano, con compagni della scuola media di Fonteblanda. Spettacolo che aprirà il prossimo 27 maggio, il festival Luci nel Parco. Il progetto è stato presentato nel Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso. Sentiamo le interviste. È un sostegno bello, un sostegno che tiene insieme solidarietà e sviluppo e crescita, un sostegno che vede la vicinanza da parte di tutta la regione, insieme all'assessore Marras, alla collega Spadi. Oggi siamo qui tutti insieme, anche per dire grazie a chi si mette in gioco, a disposizione Supereroi sarà anche un modo per lanciare messaggi di sostegno, di speranza, di solidarietà. Penso che iniziative come queste vadano sostenute. C'è esattamente l'idea di Toscana. La Toscana è sempre stata una terra aperta, inclusiva, una terra di opportunità e tutte queste parole, solidarietà, inclusione, opportunità, si tengono insieme in questo progetto. È un immobile che non aveva più un uso del patrimonio regionale, anzi di terre regionali, presso il complesso di rispeciale ex Enauli, che individuato è stato messo a disposizione per questo progetto, che appunto ha raccolto da un strumento finanziario dedicato e finalizzato appunto alla realizzazione di un investimento ad impatto sociale, quello che è il primo esempio in Italia. E naturalmente essendo ad impatto sociale ha delle attività, oltre che essere stato rigenerato, ha delle attività che coinvolgono un partenariato che a dire che è esteso è riduttivo, perché è un partenariato esageratamente largo, che praticamente coinvolge tutta la società locale, le associazioni, le imprese sociali, che più di altre si impegnano da tempo sul territorio e che attraverso quell'attività oggi possono offrire e allargare l'intervento sociale a tanti altri soggetti che da lì partono e che arrivano in un contesto di coinvolgimento davvero molto molto ampio. Oggi stiamo parlando proprio dello spirito circolare che è tipico di luci fin dal suo inizio, perché abbiamo questa biosteria che ospita spettacoli di musica dal vivo, come tanti locali però. La cosa importante è che non solo i musicisti ovviamente ricevono un compenso per le loro esibizioni, ma allo stesso tempo donano gratuitamente delle ore, nei mesi successivi, per avvicinare alla musica persone che in altro modo non se lo potrebbero permettere. In questo modo è nato appunto il progetto con Crisalide e con questo gruppo di ragazzi che ha visto come la musica possa essere uno strumento per collaborare e per lavorare insieme a un progetto comune che è quello che presenteranno restituendoci a loro volta ciò che hanno ricevuto nello spettacolo del 27 maggio alle ore 18, aperto ovviamente a tutti coloro che vorranno partecipare. Allora, è un progetto di investimento a impatto sociale, che è un termine che si può sembrare vago, quasi retorico. In realtà è il primo effettivamente realizzato in Italia senza un euro pubblico e neanche filantrofico perché si è semplicemente preso le mosse, si è preso la lezione da quello che si viene fatto in altri paesi europei, ad esempio in Gran Bretagna e poi soprattutto con la riforma del terzo settore del 2016 quando sono stati aperti alcune iniziative sono state incanalate come quella dei titoli di solidarietà, cioè la finanza utilizzata facendo leva sul risparmio approvato ai 5.600 miliardi di risparmio privato come leva per liberare risorse e erogazioni liberali che vanno al mondo del terzo settore. Da lì poi sono venute le attività fra cui anche quella di cui parleremo oggi. Le attività sono gestite da una cooperativa sociale di tipo B abbiamo qui Gabriele a rappresentarla che ha creato posti di lavoro e qui la comunità crisalide per ragazzi in comunità protetta allontanata temporaneamente le famiglie con le quali abbiamo fatto questa seconda parte quindi è un progetto corale che ha visto in primis la regione toscana a crederci la quale però non abbiamo chiesto soldi abbiamo chiesto di esserci e di fare questo di mettere a disposizione un immobile pubblico in disuso quindi è una rigenerazione, un'economia sostanzialmente circolare ma fatta con le persone e con le competenze mettendo in circolo il risparmio privato. Noi basiamo il nostro sistema educativo sull'inclusione e sul riappropriarsi della propria identità, della propria vita cosa che i ragazzi perdono perché vivono delle esperienze traumatiche perché vivono delle esperienze molto disfunzionali perché vivono delle situazioni un po' borderline oltre ad avere delle patologie ma queste sono sempre in secondo piano non sono sempre la prima motivazione dell'inserimento in comunità sono per la maggior parte ragazzini che non hanno una struttura di regole non hanno una struttura di pensiero cerchiamo di dare questa struttura di regole e di pensiero basandoci su un sistema educativo molto basico molto semplice il qui ed ora e il fare con regole precise, confini chiari chiarezza con il minore e cerchiamo di fargli fare il più possibile quindi fargli cucinare, sistemargli la stanza attività extra comunitarie o laboratori interni abbiamo delle arti terapeute abbiamo degli insegnanti di musica per esempio che fanno l'OS però sono anche insegnanti di musica e quindi creano dei laboratori interni abbiamo tanta terra cerchiamo di fare l'orto tutti gli anni per quello che riusciamo a fare perché comunque sono dei bimbi con una fascia d'età sono piccoli quindi insomma la capacità di attenzione non è molta è neanche il piacere di lavorare alla terra e di fare alcuni laboratori però ci proviamo grazie a questi percorsi riusciamo a dare un futuro a fargli vedere che c'è un futuro ecco che è l'obiettivo finale e chiudiamo parlando ancora di cultura anche quest'anno la Regione Toscana è presente al Salone del Libro di Torino appuntamento centrale per tutto il mondo del libro che si concluderà lunedì 22 maggio la Regione sarà presente con i suoi editori e i suoi autori ma soprattutto lo fa con progetti e esperienze di cui sono protagonisti biblioteche, scuole, associazioni e interi territori ne ha parlato il consigliere Stefano Scaramelli Salone del Libro di Torino un impegno del Consiglio regionale della Toscana siamo presenti per sostenere le iniziative che si riferiscono alla lettura la lettura è una dimensione straordinaria che l'uomo può dedicare soprattutto ai bambini l'invito alla lettura tante iniziative di promozione per valorizzare non soltanto l'attenzione l'apprendimento, la fantasia anche un po' la fatica di tornare a leggere un libro sfogliare un libro con le mani ha una dimensione di gestualità il sapore e l'odore della carta ha il suo valore e credo che in questo periodo dove tutti sono abituati a fare scrollare il proprio cellulare essere po' passivi di fronte non più a una televisione ma magari a uno smartphone l'invito alla lettura può avere un grande senso un grande valore anche di carattere culturale un invito ovviamente alla lettura alla scrittura alla capacità di riappropriarsi di un valore importante per questo siamo presenti con la nostra biblioteca e personalmente anche un motivo di soddisfazione personale perché nella mia breve vita politica ho anche avuto modo di scrivere due libri che ho depositato e consegnato gratuitamente alla nostra biblioteca e mi fa piacere ogni anno rinnovare questa mia stessa relazione personale con la scrittura con la lettura e con il Salone del Libro di Torino è tutto per questo appuntamento con Morito del Consiglio vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti